Quinto turno di campionato alle porte per la Fidelisandria, obiettivo restare lì in alto in vetta nel girone H di Serie D. Ma occhio al Martina con pagine e rivelazione di questo avvio, così mister Raffarina nella conferenza stampa pre-partita. Hanno cambiato abbastanza, però conosco le idee di Massimo Pizzulli, conosco come affronto questo tipo di partite. Quindi diciamo che è una sfida che già c'è stata nel passato e anche quest'anno, un mese fa le abbiamo affrontate in Coppa Italia. Le conosciamo abbastanza bene, stanno dimostrando di essere una squadra importante così come noi, sarà una bellissima partita sicuramente. C'è tanta curiosità per l'ultimo arrivato Daniele Sciaudone, un centrocampista di categorie superiori, fresco di promozione in B con la Reggiana nella passata stagione e che in Puglia è già passato da Bari e Taranto. È un giocatore importante che ha fatto categorie superiori, si è calato subito nella nostra realtà e quindi ha avuto un grosso impatto per quanto riguarda come sul gruppo. Per quanto riguarda, diciamo che sicuramente sarà tra i disponibili, sicuramente potrebbe essere della partita, è una valutazione che farò domani mattina, tra domani mattina e domenica. In campagna abbonamenti il pubblico andriese ha risposto molto bene. 1919 abbonamenti, il record in D è migliore persino di alcune annate tra B e C, ma anche in trasferta il seguito continua ad essere numeroso, lo sarà anche al Tursi.